Un rapporto malato. Quell'uomo non mi piaceva e non volevo sposasse mia figlia. Queste alcune delle parole emerse oggi nel tribunale di Pesaro durante la deposizione di Elina, mamma dell'Ucraina Anastasia uccisa Fano nel novembre 2022 dal marito egiziano Amrallah Mostafa Alashri con 29 coltellate, omicidio al quale seguì occultamento di cadavere nelle campagne fanesi prima dell'arresto dell'uomo in fuga alla stazione di Bologna. Oggi la testimonianza in tribunale della signora Elina arrivata dall'Ucraina dove ora affidatare del piccolo Adam, figlio orfano della madre, alla presenza dello stesso imputato. Un rapporto di coppia secondo la donna precipitato dopo la nascita del figlio e il trasferimento a Fano in fuga dalla guerra. Nipote a cui la signora Elina inviava denaro ma che all'acere teneva per sé senza mai occuparsi del bambino. Questo quanto emerso dalla testimonianza della donna che ha dato conto dell'esistenza di continui letici ma di non aver mai assistito episodi di violenza fisica sebbene la stessa Anastasia raccontasse telefonicamente alla madre di continui maltrattamenti e di temere soprattutto per l'incolumità del bambino. Una situazione che portò alla denuncia di Alashri appena due giorni prima dell'omicidio. Nel pomeriggio anche la deposizione dell'imputato che già nei precedenti colloqui aveva sostenuto di essersi difeso da un'aggressione della giovane. L'uomo ora rischia l'ergastolo.